L'uomo non è onnivoro, pensa che gli animali onnivori neanche esistono, questo è un grosso fraintendimento. La mela è il frutto specie specifico per l'uomo, ogni frutto ha un animale specifico. La mela intanto è uno dei pochissimi frutti che sta perfettamente nella nostra mano, è tondo ed è delle dimensioni giuste. In secondo luogo la mela ha una polpa dura, diversamente dalla maggior parte dei frutti, ha una struttura perfettamente compatibile con il nostro apparato boccale. Dovete sapere che i nostri canini sono fatti apposta per mangiare la mela. E la pera che è simile di composizione, anche quella sta nella mano e il morso... No, perché la pera ha una struttura semirigida e quando è matura la pera è morbida e quando tu la mordi ti si sfracella in mano, ti sbrodoli. È tutto perfetto nella natura, non ci sono cose a caso.